Buosta, 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 lasciatemi stare, buosta, mi fanno bullismo, buosta, 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 su c***a, la differenza tua e il disagiato non sono io ma sei tu, perché io ho una bella casa, un bel lavoro, un bel contembanca, non aspetto il 22 ogni mese, buttato su un letto come una latrina, quindi bye bye. Sai, dimenticavo, io non rutto davanti a una telecamera, non scorreggio e non mi gratto le palle prima di fare un mokubeng mangiandomi un panino come fa il tuo morito. Chi è il disagiato? Chi? Chi sono i disagiati? Io o voi? Adios, Chiare, bella figura di merda. Ma visto che ti vanti tanto, ma come mai non mi fai chiudere anche questo canale? Forse perché adesso sono sotto network e con i tuoi strac ti ci puoi pulire, come direbbe la regina La Pucchiacca. Grazie. 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 Grazie.